Un po' come cenerento la stop dalla mezzanotte tutti i giorni della settimana ai tavoli all'aperto e dalla stessa ora di vieto di vendita delle bevande per asporto. Sono due le misure adottate dalla Giunta Comunale di Pescara che ha fatto propria la relazione del tavolo tecnico istituito per attuare il piano di risanamento acustico della zona centrale della città, interessata dall'annosa questione della contrapposizione tra residenti e gestori dei locali nell'area di Piazza Muzzi. Ma gli esercenti non ci stanno. Fabrizio Vianale di Confartigianato va all'attacco anche per bocca delle altre associazioni di categoria perché è una soluzione che riporta, dice, indietro nel tempo. Perché fondamentalmente è un provvedimento che non risolverà il problema ma creerà ulteriore problematiche nell'area perché probabilmente diverse attività, che tra l'altro hanno delle strutture pochi metri quadri, non saprebbero neanche volendo dove mettere questi tavolini. Quindi spostamento di tavoli a mezzanotte significherebbe anche chiusura a mezzanotte dell'attività. Perché voi dite, magari uno sta mangiando e gli si toglie il tavolo da sotto la bocca? Si tratta di un provvedimento anacronistico che non risolve il problema antropico. Noi abbiamo dimostrato con uno studio di tecnici molto preparati che in periodi poco frequentati della Movida, ma era un lunedì o martedì di novembre, non c'era quasi nessuno, si superavano i valori dei decibel. Quindi il problema dei decibel non lo supereremo mai con nessun tipo di provvedimento. Tra l'altro il Comune continua a convocarci per metterci a conoscenza ma non per un confronto. Il Comune precisa che se la situazione dei rumori dovesse migliorare, il piano che è flessibile permetterà di rivalutare i provvedimenti che dovrebbero durare tre mesi. Ma Vianale dice che ci sarà un Natale spento. Il problema non si risolve. Noi avevamo chiesto due cose per, diciamo fondamentalmente, creare un compromesso. Un aderogo al periodo natalizio e al periodo estivo per alcuni piccoli spettacoli, per renderle quella zona nuovamente attrattiva. E fondamentalmente non ci sono venuti in conto. E per risolvere il problema la sperimentazione di telefoni assorbenti. Da quando entrerà in vigore questa delibera? Ieri abbiamo chiesto di vederla. In realtà non ce l'hanno permesso. Ci hanno detto che questa mattina sarebbe stata pubblicata sul Labo Pretorio. Probabilmente con effetto immediato è per tre mesi. Quindi pensare a un Natale con tavolini, diciamo senza tavolini da mezzanotte in quella zona per noi è veramente qualcosa che danneggia una città che aspira a diventare, a tornare ad essere al centro dell'economia abruzzese e del territorio. Tra l'altro ci sono anche problemi di natura economica perché qualcuno ha pagato il suolo pubblico e i locali possono essere aperti all'interno fino all'orario normale, ma non potrebbero somministrare alcol sul suolo pubblico già versato. Quindi questo scaturirà anche fondamentalmente a ricorsi. Noi ci dobbiamo ancora rivolgere ai nostri legali. Grazie a tutti.